Tutto pronto per il debutto casalingo dei Nero Stellati nel campionato di Serie D, che domani nel Girone F manderà in scena il primo derby abruzzese. Nell'anticipo della seconda giornata i Peligni ospiteranno il Francavilla, ripescato nella quarta serie nazionale e affidato in estate al tecnico pescarese Pierluigi Iervese. Dopo la sconfitta per 4-2 rimediata domenica scorsa a Castelfidardo, i Nero Stellati sfideranno l'altra matricola abruzzese, caduta anch'essa nel primo turno di campionato sotto i colpi di una squadra marchigiana. Quel Fabriano Cerreto che già nello scorso giugno festeggiò al Valle Anzuca l'accesso diretto in Serie D, dopo aver prevalso sui giallorossi nell'ultimo atto delle fasi nazionali dei playoff di eccellenza. Muovere la classifica è l'imperativo degli Adriatici, che saranno seguiti in Valle Peligna da un buon numero di tifosi, al termine di una settimana nella quale hanno fatto notizia gli addi del centrocampista ed ex capitano Matteo Milizia e del difensore centrale Manuel Di Lallo. Sull'altro versante c'è voglia di riscatto anche per i Nero Stellati, nella giornata che riporterà la Serie D nel centro Abruzzo, più di tre anni dopo il match che sancì la maesta retrocessione del Sulmona, sconfitto in casa 3-0 da un'altra abruzzese. La miternina, trascinata in salvo dalla doppietta di Torbidone e dalla rete di Peveri nella gara secca playoff del 18 maggio 2014. Quello stesso pomeriggio scesero in campo, ma su fronti opposti anche gli attuali centrali difensivi Nero Stellati, Di Ciccio e Valente, con quest'ultimo che proprio oggi festeggia le 32 primavere. Auguri! Gli stessi difensori domani potrebbero ritornare a far coppia al centro della terza linea Nero Stellata, stando anche all'assenza di Del Gizzi ancora fuori per infortunio, così come il centrocampista Pacella, mentre sulla via del recupero l'attaccante Cicconi che potrebbe rientrare tra i convocati. Rispetto a domenica scorsa, possibili cambiamenti nell'undici di partenza da parte di mister Di Marzio, che potrebbe apportare modifiche anche in base alle caratteristiche di un avversario già affrontato lo scorso 20 agosto in occasione del primo turno di Coppa Italia. Al momento sono i punti la cosa più importante per i peligni che dovranno ritrovare l'aggressività dei giorni migliori, mantenendo le giuste distanze tra i reparti e un equilibrio sufficiente a evitare quei pericolosi blackout che hanno contraddistinto le prime uscite ufficiali di Vitone e compagni, chiamati a dare di più per mettere Fiedo in cascina. Sostenitori e sportivi peligni, chiamati dunque a raccolta per la sfida di domani tra Nero Stellati e Francavilla, dirigerà l'incontro il signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Si giocherà allo stadio Pallozzi di Sulmona con calcio d'inizio alle ore 17, previsto il pubblico delle grandi occasioni.